le tenebre e la gluce, perché le loro opere erano malvagie. E aggiunge, in verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato alla vita eterna e non mi incontra al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Signore, Tu dici che sei la luce del mondo, che viene la luce, emerge dalle tenebre, dalla notte, viene la vita, Tu sei la vita, oh Signore. E noi questa sera vogliamo cantare a Te, luce del mondo, vita del mondo. Chi crede in Te viene alla luce, chi crede in Te ha la vita eterna. Signore, Tu sei luce da luce, vita da vita. Dio, Tuo Padre, abita in una luce inaccessibile, ma Tu sei la luce, perché sei uscito dal Padre e sei venuto in questo mondo. La vita era nel Padre, e il Padre ti ha dato la vita, e Tu sei venuto in questo mondo perché gli uomini abbiano la vita. Tu dici che chi crede in me ha la vita eterna. Signore, noi crediamo a Te. Attorno a noi c'è tanta morte, attorno a noi ci sono tante tenebre, ma Tu sei la luce, Tu sei la vita. Noi siamo i figli della luce, noi siamo coloro che vivono in mezzo ai morti. Glorie e glorie a Te, Signore. Glorie e glorie a Te, Signore. Grazie, Signore. Grazie a te.